La lama di Mitri, lunguizzo di fulmine argenteo che si faceva a strada nelle schiere dello scuro signore i nemici venivano uccisi prima ancora di rendersene conto Forza, la leggenda del pugnale Arkhan Uccise furtivamente gli schiavisti in tre minuti Ma questa è impegnativa 10 in tre minuti vuol dire che bisogna trovare il pattern perfetto Per capire come fare Sarà un piccarà? Questo sta facendo la pipì Schifosone Lo sta andando stranamente per il meglio Sono perplesso Ma che è ripoppato lo schiavista No dai Frumbo che gli ha dato un'occhiata ed è fuggito urlando come un pelle molle Non sopraffiverà alla vergogna Ok Ne devo fare tre in Pochissimo Beh pochissimo Un minuto e mezzo tutto sommato Dai che ne mancano due in un minuto Eccoci qua Che nessuno si giri per favore Non giratevi Eccola qua Accello è sbloccato Leggenda dell'ombra Missione completata Tutorial Potenziamenti per armi Completa tutte le missioni indicate con l'arma E altre missioni secondarie per guadagnare dei Mirian Non guadagni abbastanza Potrai acquisire l'abilità potentissima per il tuo pugnale L'ombra di Akarn ti permetterà di sparire per breve tempo Permettendo tue uccisioni furtive illimitate Vediamo il filmato E dai comunque insomma Mi sembra che pur essendo un gioco con Usiamo questo eufemismo Degli evidenti richiami ad altri titoli più noti No, non è male Mi sembra divertente Dai